Grazie, buongiorno a tutti, beh naturalmente non devo aggiungere poi molto, ringrazio naturalmente il sindaco Maragon per l'invito, il gruppo Gherom, noi siamo stati pionieri, il gruppo Gherom ha investito, la prima struttura è stata realizzata nel comune di Campodarsi, un momento storico che abbiamo vissuto difficilissimo, una struttura all'avanguardia che dà servizi di grande qualità. Speriamo che questo periodo lungo, lunghissimo e del quale noi proprio non ne vogliamo più sapere finisca, perché veramente queste strutture devono essere un punto di raccordo tra la comunità e i nostri ospiti, gli ospiti che si saranno qui presenti. Quindi nell'augurarvi tutto il bene possibile, grazie ancora al gruppo Gherom per credere nel nostro territorio e nella nostra comunità. Grazie ancora e buona giornata. Grazie, conclude la mia collega Alessandra Natali per una presentazione speciale. Grazie a tutti per essere qui in questa nuova mia casa. Ringrazio il gruppo Gherom per questa opportunità e la vedo anche come una missione, perché appunto i nostri nonni li trattano come i miei genitori e quindi credo che debbano avere veramente il massimo.